questo libro che ho messo in che abbiamo messo in palio che ho suggerito perché fosse messo in palio e Baudolino di Umberto Eco perché l'ho messo in palio se qualcuno di voi l'ha già letto sapete che narra di San Baudolino Umberto Eco e Alessandrino San Baudolino è il patrono di Alessandria io insegno anche ad Alessandria tutti gli anni mi dimentico che quel giorno lì è San Baudolino mi presento ad Alessandria e poi devo tornare indietro perché mi trovo la porta dell'università chiusa bene Baudolino viene quindi descritto da Umberto Eco ed è un impareggiabile cacciaballe cioè racconta un sacco di storie le inventa ma siccome siamo dentro un libro e nel libro ci siamo sono pieni di realtà e il libro in fondo è un romanzo non capisci più se la bugia la bugia della bugia la bugia della bugia della bugia ci sono tutto un gioco di scatole cinesi molto molto complicato che riprende una cosa che Eco aveva già fatto col pendolo di Foucault se voi l'avete letto uno dei miei libri preferiti insieme al nome della rosa perché parla di una realtà di tipo narrativo che a forza di parlarne in un certo senso assume una consistenza ontologica cioè diventa vera che a un certo punto ci credono e ed è un bellissimo libro da leggere dunque come mentono i classici noi diciamo nella vita un sacco di bugie un po' perché vogliamo e un po' perché dobbiamo gli antichi più o meno lo facevano o almeno la nostra idea noi abbiamo sempre l'idea che gli antichi siano delle specie di santi al liceo si impara in questo modo invece erano non solo uomini come noi ma a volte peggio di noi cioè qualche volta sapevano essere bravi nel bene ma anche nel male la stretta che c'è stata nella tradizione letteraria ci ha conservato la letteratura migliore e quindi ci ha conservato quelli che scrivevano meglio e quindi erano capaci per esempio di ingannare meglio il lettore per cui noi abbiamo tutto sommato la nostra la letteratura che ci è rimasta e la selezione dei bugiardi migliori cioè più bravi ora vi faccio vedere qualcuno di voi l'ha visto l'ho fatto vedere gli allievi oggi perché questo questo per fare questa conferenza ho girato un piccolo trailer di cui però in sala non si sente l'audio invece si sentirà la a casa comunque guardatelo un attimo guardate cosa succede faccio partire io ok uno parla in greco l'altro in latino pot premio offerto ha più una stima per dire a pagina e se senta così è è Grazie. Ok, qui ho... Allora, questo breve cappello contiene in realtà alcune cose interessanti, premesso che ve l'ho fatto vedere, perché ci ho messo più tempo a fare questo che a scrivere la conferenza, e contiene alcune cose interessanti. Ma prima una notazione che fa un po' le epigrafe, un frammento di Eudoro di Lanzacco, che è un autore che probabilmente non conoscete a scuola, autore di un'opera strana che si chiama Spirologio, il frammento 4, Fowler, che è lo studioso che l'ha raccolta, che dice Pseudos Poeteon Onar, cioè la menzogna è un sogno dei poeti. Una frase, secondo me, bellissima, che dopo commenteremo. Ecco, a un certo punto, vedete che i due personaggi del video sono uno io, che parlo in latino, e l'altro Epimenide, che parla in greco antico. E a un certo punto quello che parla latino dice all'altro non mi fido di te, i cretesi sono bugiardi. Questa cosa, l'avete probabilmente già sentita, è il famoso paradosso del, è il famoso paradosso di Epimenide, detto anche il paradosso del cretese o della menzogna. Cioè, se Epimenide dice tutti i cretesi sono bugiardi e lui è cretese, allora non è vero che tutti i cretesi sono bugiardi. E quindi si crea un cortocircuito mentale, ma ci torno. In realtà, la cosa può essere ancora più stretta e l'ha fatto Eubulide di Mileto, che è un autore del quarto secolo, che ha detto questa cosa qua. Sto mentendo. Questa cosa, se ci pensate, vi manda il cervello ai matti. Perché se io dico sto mentendo, allora non è vero che sto mentendo. Però, se non è vero che sto mentendo, allora sto mentendo, allora è giusto, allora sto mentendo. Cioè, si diventa matti. È un po' come il vecchio giochetto che si scrive su un foglio come fare impazzire un carabiniere, freccetta, girare, e sull'altro foglio scrive come fare impazzire un carabiniere, freccetta, girare. No, poi vedi che... L'idea è più o meno quella. Questi sono paradossi e sono molto antichi, indicano... Beh, allora, come intendo, è molto antico. Tutti i cretesi sono bugiardi, sì, va bene, anche quello, ma in realtà sono dei problemi logici veri, cioè non sono... Servono a indagare dei cortocircuiti nella nostra logica, cioè la nostra logica dei punti dove non funziona più. Attenzione, perché c'è differenza tra quello sotto e quello sopra, perché tutti i cretesi sono sempre bugiardi, può essere falso in realtà in due modi. Tutti i cretesi sono bugiardi, se è falsa, può essere due cose. Nessun cretese è bugiardo e allora funziona. O se no, non tutti i cretesi sono bugiardi e allora non funziona, perché per esempio Epinenide potrebbe essere tra quelli che sono bugiardi o quelli che non sono bugiardi. Cioè, questo gioco qua funziona solo all'interno di una logica binaria, o è vero o è falso. Se usate quello che si chiama per esempio una logica fasi, cioè non binaria, possono esserci diversi livelli di verità e la cosa non necessariamente è vera o falsa. Per esempio, se io dico, beh, questo è l'esempio che ho trovato in rete, che so, questo neonato è giovane, la cosa è vera 1, verità 1. Se io dico, Massimo Manca è giovane, la cosa è vera 0,4. Se io dico, tizio, novantenne, è giovane, la cosa è vera 0,1 o 0,2. Cioè, ci sono diversi livelli di verità e quindi diversi livelli di bugia, perché la bugia è il complemento a 1 della verità. Ora, un modo per mentire con cui mentono gli antichi è essere ambigui. Fammi un click. C'è questo passo famosissimo, no? Che si fa sempre, chiunque abbia fatto greco l'ha fatto a scuola o lo danno o in qualche versione, insomma, in qualche parte c'è. Nel primo libro, Erodoto 1, ho dimenticato la cosa che deve essere 35, qualcosa del genere, Erodoto dice che Creso manda a consultare un po' di oracoli per sapere se deve fare la guerra ai persiani o no. L'aneddoto, in realtà, molti conoscono solo la seconda parte, però c'è una prima parte interessante. Lui sa che gli oracoli mentono, cioè, non sono sempre sicuri. Allora, gli manda un bel sette, otto oracoli, manda a tutti questi, manda dei messaggeri e fa un test per vedere se sono onesti o no. E il test è dire allora mettiti d'accordo e quel giorno lì chiedete all'oracolo cosa sta facendo Creso in questo momento. E due rispondono, due oracoli rispondono giusto. quello che ci interessa è quello di Delphi, quello più famoso. A questo punto, a questo punto, vanno, a questo punto mandano l'oracolo per fare la domanda vera. Allora, devo andare in guerra o no? E l'oracolo gli risponde se farai la guerra ai persiani distruggerai un grande regno. e la profezia si avvera, però il regno che viene distrutto è quello di Creso. Possiamo dire che ha mentito o no? E non si sa. Cioè, vedete che anche lo status della menzogna di cosa è vero e che cosa è falso è un po' inbilico. In fondo ha detto quello che era. La cosa che c'è nel video ibis, redibis, non morieris in bello cambia a seconda della punteggiatura. Se fai ibis, redibis vuol dire andrai, redibis tornerai, non morieris in bello, non morirai in guerra. Se cambi la punteggiatura diventa ibis, andrai, redibis non, non tornerai e a questo punto il non ce lo siamo giocato e quindi morieris in bello morirai in guerra. Vedete che dipende tutto da come si mette la punteggiatura che gli antichi non mettevano quindi le frasi potevano essere più ambigue di come le facciamo noi. Quella cosa lì l'ibis, redibis, non morieris in bello in realtà è di tradizione molto tarda e attestato per la prima volta in una cronaca di un tizio che si chiama Alberico delle Tre Fontane e che sostanzialmente vissuto fate conto potrebbe essere il padre di Dante quindi più o meno quindi in realtà è tardissima la tradizione prima non se ne sa niente però è abbastanza famoso. Dunque vediamo veniamo al più illustre bugiardo della letteratura greca che è Ulisse il famoso episodio di Polifemo che tutti conoscete funziona in questo modo viene chiesto a Polifemo chiede a Ulisse voi chi siete e Ulisse risponde così noi siamo ok nel tornare da Troia travolti da tutti i venti sul grande abisso del mare diretti alla patria altro viaggio altri sentieri battemmo così Zeus volle noi siamo i guerrieri della Tride Agamennone di cui massima ora è sotto il cielo la fama lui ha distrutto Troia ha annientato guerrieri innumerevoli e ora alle tue ginocchia veniamo supplici semmai tu un dono ospitale ci dessi o magari ci regalassi qualcosa questa è la norma per gli ospiti rispetta i numi siamo tuoi supplici e Zeus è il vendicatore degli stranieri e dei supplici Zeus ospitale che gli ospiti venerandi accompagna il discorso di Odisseo è abbastanza cioè è lineare notate che sta dicendo la verità cioè esattamente quello che è successo e naturalmente le sue parole sono accorte sta dicendo mi raccomando trattaci bene se non gli dei poi ce l'hanno con te cioè c'è un sotto una sottominaccia all'interno ma come sapete come sapete l'altro vi dice no 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 adesso io vi mangio tutti però prima tu dimmi dov'è la tua nave e come ti chiami a questo punto il registro cambia completamente e diventa questo Ulisse dice la nave nella spezzata Posidone e nosictono contro gli scogli al limite del vostro paese proprio sul promontorio soltanto io sono riuscito a sfuggire con questi l'abisso di morte adesso sta mentendo perché la nave c'è tra un pezzo e l'altro c'è questo verso qui alla minapsorron proseffendo gli oise fessi così in risposta gli dissi con ingannevoli parole questa frase qua è un marker cioè come la traduciamo la traduciamo così ma è per usare una terminologia che uso spesso cioè quella della letteratura traduzione ipertifica potremmo tradurla in questo modo non viene no non viene potremmo tradurla così in risposta gli dissi faccina gialla che fa così con quella emogili no che si usa cioè con ingannevoli parole così in risposta gli dissi tantissime volte nel nei poemi omerici con ingannevoli parole marca il fatto attenzione da qui in poi odisseo mentirà il lettore potrebbe capirlo da solo cioè l'ascoltatore potrebbe capirlo da solo ma in effetti Omero tende a essere esplicito quindi attenzione qua si mente attenzione qua si dice la verità e quindi le due parti sono separate in questo modo dopodiché naturalmente ormai ci ha preso gusto a ecco eccolo è venuto cioè così dovrebbe essere no perché questa è l'idea così gli risposi ecco a questo punto c'è ciò che tutti conoscete no dice come ti chiami e lui dice il mio nome nessuno mi chiamano nessuno e lui l'altro gli risponde e allora io mangerò nessuno per ultimo dopo i suoi compagni allora Polifemo non lo sa ma sta dicendo una cosa diversa da quella che pensa lui pensa di dire allora mangerò nessuno dopo i compagni ma in effetti sta proprio dicendo io alla fine non mangerò nessuno cioè si sta profetizzando ciò che accadrà effettivamente cioè effettivamente lui non lo mangerà ma non se ne accorge quindi perché è vittima di una manipolazione dopodiché naturalmente sapete che la storia va avanti e pardon ah scusate ho girato succede come sapete lo viene accecato e si mette a gridare e a dire ai suoi amici o filoi utis mectanei dolo ude biesi amici nessuno mi uccide con l'inganno non con la forza gli altri dico se non ti uccide nessuno perché alzi la voce stai zitto naturalmente e e questo è interessante perché ovviamente lui sta dicendo una cosa che pensa di essere vera adesso in realtà sta dicendo una menzogna nel senso che non sta dicendo il vero c'è qualcuno che lo sta uccidendo qui sta dicendo una bugia nessuno mi uccide pensando di dire la verità cioè qualcuno uno che si chiama nessuno mi uccide siamo sullo stesso piano di prima cioè sul piano di tutti i cretesi sono bugiardi e queste cose qua che erano un problema logico e che veniva risolto dalla logica stoica dalla da Aristotele gli stoici dicevano vabbè è una figura non valida la mettiamo e poi successivamente veniva risolto con maggiore cioè distinguendo le frasi che si usano e le frasi le metafrasi cioè frasi che hanno solo significato ma non hanno sostanza e queste sono frasi che non sono ovviamente valide bene adesso passerei a ecco allora vi ricordo si sente molto spesso l'espressione lei mente sapendo di mentire si sente spessissimo ora io mi ricordo quando è stata fondata questa frase questa frase è stata fondata dall'allora onorevole Silvio Berlusconi nel 98 cioè quando è entrata nell'uso in aula disse Romano Prodi era presidente del consiglio quindi dice lei mente sapendo di mentire insomma venne giù l'aula fu un momento molto molto forte curiosamente è stata poi riutilizzata da Antonio Di Pietro discreto nemico di Silvio Berlusconi 12 anni dopo Silvio Berlusconi mente sapendo di mentire ora questa frase è un po' strana perché per mentire bisogna sapere mentire bisogna sapere di mentire perché se uno non sa di mentire non mente si sbaglia no? di se io vi dico non lo so qua è alto 40 metri non lo so quanto è alto quindi lo di così ma se so che è alto così allora funziona in realtà è possibile vedete che Polifemo mente non sapendo di mentire tutto sommato c'è un altro che gli ha fatto in modo che mentisse senza che lui lo sapesse passo a farvi vedere una cosa latina questo è Seneca Consolatio ad Polibium Polibio è un liberto di Claudio Seneca si trova esiliato in Corsica perché Caligola non lo poteva e soprattutto Messalina non lo potevano vedere l'avevano esiliato in Corsica e non avevano tutto sommato tutti i torti insomma Seneca è un personaggio un po' ingombrante e e quindi lui vuole tornare a casa un potente liberto di Claudio e questo signore qua Polibio ha perso un fratello e quindi Seneca gli fa una consolatio una specie di che è uno scritto per consolare qualcuno della morte di un caro ma invece di soffermarsi su questo ne approfitta per uscire con un panegirico terrificante nei confronti di Claudio cioè parla più di Claudio che del fratello morto e questo è il pezzo che vedete ma tu se vuoi dimenticarti del tuo lutto pensa a Cesare Cesare naturalmente sta per Claudio il titolo vedi quanta fedeltà quanta devozione devi alla sua indulgenza verso di te allo stesso Cesare cui tutto è lecito proprio per questo molto non è lecito la sua veglia difende i sonni di tutti la sua fatica la nostra tranquillità la sua laboriosità i nostri piaceri il suo darsi da fare il nostro ozio da quando Cesare si è dedicato al mondo si è strappato a se stesso e con le stelle che quasi mai percorrono il loro corso non può mai fermarsi e fare qualcosa per sé mentre Cesare possiede il mondo tu non puoi abbandonarti né al piacere né al dolore né a nient'altro perché devi tutto a Cesare e va avanti praticamente così tutta la consolazione ad polidium vedete che è solo un pretesto la consolazione allora mi piace questa cosa qua la sua veglia difende i sonni di tutti la laboriosità i suoi piaceri lui lavora perché noi possiamo stare tranquilli ma soprattutto questa la sua veglia difende i sonni di tutti perché è una cosa che uno ha già nelle orecchie anche se non ha fatto lettere classiche e infatti eccolo qua questo è il tema di un bambino sotto il fascismo ma faceva parte della rettorica fascista il duce lavora sempre e non dorme quasi mai chiude gli occhi ogni dieci minuti poi si sveglia si dà una bella lavata e torna subito a lavorare che è fresco come una rosa questo scriveva un bambino delle elementari negli anni trenta più o meno e in effetti sì funziona in questo modo molti uomini politici famosi in realtà sono insonni la famosa la famosa insonnia dell'onorevole andreotti che dormiva tre quattro ore per notte invece no Mussolini dormiva abbastanza però conosceva questo tipo di retorica cioè il fatto dell'insonne che non dorme che veglia sui destini della nazione e quindi lasciava a pe sempre accesa la luce dello studio in piazza Venezia perché sembrasse che stava lavorando e invece andava a dormire tra l'altro non lì ma a Villa Torlonia e però faceva parte della costruzione del personaggio quindi questo vedete che funziona sempre è un topo è una bugia ma si fa è una bugia ma si fa Claudio e questa persona qua salito al potere nel 41 dopo la morte di Caligola e poi resta fino al 54 chiamato al potere a più di 50 anni lui non voleva diventare imperatore era un topo di biblioteca gli piaceva stare con i suoi libri la sua storia etrusca e tutte queste cose non parlava bene era balbuziente era un po' zoppo e insomma non aveva il fisico dell'imperatore però l'hanno praticamente tirato a fare l'imperatore e non se l'è poi cavata male nel senso che abbiamo tutto sommato fatto cose abbastanza abbastanza egregie e adesso vi leggo un altro testo molto diverso da ciò viene annunciato a Giove l'arrivo di un uomo di statura discreta con i capelli tutti bianchi questo qui aveva l'aria di non fare non so che minacce perché scrollava ripetutamente il capo e trascinava il piede destro gli avevano chiesto di che nazionalità era e lui aveva borbottato qualcosa con voce impastata e nessuno riusciva a capire la sua lingua che non era né greco né latino né nessun altro paese conosciuto allora Giove chiama Ercole che aveva girato tutto il mondo e sembrava di conoscere tutte le nazioni gli dice di andare a vedere di che razza era costruita a prima vista Ercole fu sconvolto al pensiero che forse non aveva finito di affrontare tutti i mostri sulla terra quando vide quella faccia mai vista quel modo di camminare insolito la voce che non assomigliava a quella di nessun animale terrestre ma una specie di mostro marino rauta torbida pensò che fosse arrivata per lui la tredicesima fatica guardandolo con più attenzione però gli parve in grosso modo un uomo quindi gli si fece accanto e lo apostrofò cosa facilissima per un greco con questo verso di Omero da dove vieni qual è la tua patria e i tuoi genitori Claudio fu tutto contento perché aveva trovato dei filologi allora che cos'è questa cosa se siete del giro naturalmente lo conoscete questo è sempre Seneca e questa è l'Apocolochia Intosis che viene scritta una dozzina d'anni dopo quando Claudio è morto ed è lo stesso Claudio di cui avete visto il testo precedente vedete che Seneca mente o in un modo o nell'altro cioè esagera i particolari in un senso e nell'altro e non è cambiato Claudio è cambiato Seneca e quindi è cambiato il suo punto di vista che però è un punto di vista soggettivo ma siccome lo fa apposta noi possiamo dire che mente cioè non scrive così in modo senza accorgersene perché ha cambiato idea ma effettivamente lo fa per attaccarlo naturalmente aspetta che sia aspetta che sia morto come sempre accade sempre a proposito di Seneca un famoso uno vediamo un altro caso di bugia beh qui c'è Tacito che già possiamo dire che ha un pochino mente lui più che mentire Tacito tende a insinuare cioè dice c'è chi dice che ma io assolutamente non lo so però ve la butto lì e intanto ti fa pensare che sia successa questa cosa orribile però non puoi mai accusarlo direttamente di mentire allora a un certo punto l'imperatore Claudio viene ammazzato da Agrippina quindi sale al trono il giovane Nerone giovanissima 17 anni e va e va a tenere il discorso funebre di Claudio come se niente fosse il discorso per essere sicuro che vada bene se l'è fatto scrivere dal miglior professionista sulla piazza Seneca e qui c'è la descrizione di Tacito il giorno del funerale Nerone esordì con la sua l'audazio finché enumerava l'antichità della stirpe i consolati i trionfi degli antenati era concentrato lui e gli altri anche la commemorazione della competenza nelle arti liberali e che sotto la reggenza non era accaduto niente di triste allo Stato da parte di nemici esterni fu ascoltata con orecchie ben disposte ma quando il discorso virò verso le sue doti di previdenza e di intelligenza nessuno riuscì a trattenere le risate benché l'orazione composta da Seneca dimostrasse molta cura poiché ebbe quell'uomo un ingegno sottile e adatto alle orecchie di quel tempo vedete Seneca è costretto qui non può fare Seneca odia Claudio e quindi fa un errore mentre nell'apocolo quinto si può versare tutto il suo odio a piene mani qui e quindi il suo sommato è sincero nel suo odio qui deve essere falsissimo perché deve scrivere un discorso che l'odi tantissimo Claudio professionista lo fa ma siccome in realtà odia Claudio come si dice questa volta ha toppato cioè ha esagerato cioè non è riuscito a fare quindi gli è venuto il tono troppo caricato voi sapete che se caricate troppo il tono sul patetico poi dopo il risultato è che scavallate dall'altro lato e diventa ridicolo immediatamente quindi insomma perché Previdente certo non era stato a sposarsi a grippina e saggio neppure ecco cioè quindi non funziona quindi tutti si mettono a ridere una scena gustosa descritta appunto da Tacito che è una bellissima lettura ecco vediamo però vediamo un bel po' di anni dopo il panegirico di Traiano quindi un po' dopo il cento dopo Cristo quindi un secolo dopo diciamo Plinio il giovane scrive il panegirico di Traiano sostanzialmente Plinio il giovane viene eletto console quindi fa un bel discorso di ringraziamento a Traiano e fa tutta una serie racconta tutti questi imperatori dice Tiberio dedicò Augusto al cielo gli imperatori di solito venivano divinizzati dopo la morte ma per introdurre il crimine della tirannide Nerone divinizzò Claudio ma per prenderlo in giro Tito lo fece con Despasiano Despasiano lo fece con Tito ma uno lo fece per apparire figlio di un dio e l'altro per diventare fratello di un dio invece tu hai elevato tuo padre cioè Nerva alle stelle non per spaventare i cittadini non per insultare gli dei non in tuo nome ma perché tu credi davvero che sia un dio vedete tutti cattivi tranne te succede ed è un altro topos poi con l'imperatore successivo c'è uno in più che può diventare cattivo e uno e un altro che invece fa ripartire l'età del loro a questo punto viene spontanea una domanda che tutti si fanno questi mentono ma sapete che per mentire ci vuole l'intenzionalità quindi la domanda che tutti si fanno quando si parla per esempio dei poeti augustei così dell'ideologia dell'età augustea la domanda che si pongono tutti è questi ci sono o ci fanno cioè davvero pensano sono degli adulatori oppure ci credono davvero che sta tornando l'età del loro quindi la quarta bucolica e così via ora secondo me ognuno dà la sua risposta tutto lo spettro delle risposte è riempito la mia idea personale è che non si possa dare una risposta perché è sbagliata la domanda cioè noi non dobbiamo mai presupporre che gli antichi mentano o dicano la verità come lo facciamo noi perché c'è un livello da rispettare voi sapete che per esempio un funerale vedete la differenza che c'è tra il funerale al nord e il funerale al sud funerale al sud tutti che piangono anni fa si affittavano addirittura le prefiche perché piangessero tutti si disperano la moglie sulla bara eccetera un torinese guarda quella cosa lì e dice a fammaccine traduzione per non piemontesi fanno in realtà stanno recitando scena contraria succede un lutto al torinese faccia del torinese in lutto faccia del torinese senza lutto faccia del torinese in lutto reazione di uno che è del sud guarda gli è morto uno in casa e non gliene frega niente noi abbiamo un livello di piageria di adulazione per cui da un certo livello in poi quella è un'adulazione ci sono tre livelli da un certo livello in poi è un'adulazione un po' sotto è il giusto rapporto un po' sotto sei ostile dipende da dove lo mettiamo per i romani la sticella è più alta cioè il normale è più adulante che per noi e quindi il livello dell'ostilità è più basso cioè per un romano se tu non dici questa cosa all'imperatore vuol dire che ce l'hai con lui cioè lui te lo chiede proprio ma ce l'hai con me che cosa ti ho fatto che non mi fai tutti questi complimenti cioè fa parte del galateo sostanzialmente e quindi dobbiamo porci le cose in termini probabilmente diversi ecco un'ultima cosa con cui poi chiuderò eccolo qua allora quanto so no no adesso finisco allora Cesare esorta loro che sotto la guida come comandante per otto anni avevano vestito tutto a difendere la sua stima e la dignità dei nemici i soldati urlano a gran voce che sono pronti a difendere le offese il comandante dei tribuni della plebe saputa la volontà dei soldati parte per Rimini con quella legione e lì incontra i tribuni della plebe che erano stappati verso di lui questo è il debello civili di di Cesare e questo è un punto importantissimo c'è il punto in cui Cesare passa il rubicone proprio il dado è tratto ecco qua il dado è tratto ma ci sono due buchi nella narrazione di Cesare due buchi grossi quello sotto è qui qui ci dovrebbe essere attraverso il rubicone e invece non c'è Cesare non lo scrive perché perché attraversare il rubicone è un atto di guerra verso il popolo romano non lo scrive lo dà per sottinteso non puoi dirgli che mente perché non lo mette ma sta mentendo cioè sta occultando un particolare che è fondamentale per la comprensione della cosa il secondo ancora più sottile ed è quello con cui poi chiudo dice alla legione di difendere la stima e la dignità dei nemici urlano i soldati della tredicesima legione che era presente che sono pronti a difendere dalle offese però non ci dice perché sono pronti quindi cosa ci fa pensare? ah perché sono fedelissimi sono simpatici quindi li vogliono bene bene questa lacuna è riempita da Svettonio nella vita di Cesare che però e dice questo allora vediamo un po' eccolo qua dice dice il pezzo si integra così quindi fatti venire da lui i tribuni della plebe davanti a tutti invocò la fedeltà dei soldati ok piangendo strappandosi la veste fino al petto e tutti pensarono che avesse promesso a tutti la promozione a cavaliere che successe per una falsa interpretazione perché mentre Cesare parlava e esortava mostrava spesso il dito della mano sinistra dicendo che pur di soddisfare tutti quanti lui si sarebbe perfino tolto l'anello da comandante senza problemi l'ultima fila che non riusciva a sentire ma vedeva scambiò per parole scambiò per parole ciò che aveva visto e pensò che offrisse a tutti l'anello di cavaliere e si diffuse quindi la fama che avesse promesso a tutti l'anello di cavaliere con reddito di 400.000 sesterzi urlano a gran voce i soldati della tredicesima legione che era presente e che lo seguiranno in capo al mondo vedete come si può mentire senza mentire basta tagliare le cose in modo diverso c'è solo una cosa su cui chiudo su cui si può mentire ed è la letteratura la poesia era chiamata le menzogne dei poeti in poesia è lecito è lecito farlo in letteratura è lecito farlo e quindi non c'è guardate giro sempre no è giusto sì è giusto mi giri ok grazie ok e quindi qui torniamo alla citazione questa di Udoro di Lampato Fairologhi a farmetto 4 Fone no la menzogna è un sogno dei poeti è un bel verso però è falso l'ho scritto io non esiste nessun Eudoro di Lampato Fairologia vuol dire raccontare balle quindi c'era una cosa la letteratura è bella anche se è una menzogna di solito chi ci dice bugie vuole farci del male la letteratura è l'unica cosa che ci racconta menzogne ma alla fine lo fa per migliorarci grazie